Sculture che richiamano la magia del Natale, granelli d'arte che raccontano il mare attraverso i personaggi del presepe. È un'esposizione assolutamente unica, quella che da sabato permetterà al pubblico di vivere l'emozione del Natale attraverso le opere in sabbia realizzate da tre artisti, un italiano, un cieco e uno spagnolo. Sabbia ed acqua pressata che si presta a vere e proprie sculture. I lavori sono iniziati questa mattina a pochi passi dal mare alle spalle del Cinema Diana sul lungomare di Salerno. C'è l'interpretazione della Natività nelle opere di sabbia in fase di realizzazione, come ha sottolineato questa mattina ai nostri microfoni l'architetto Gianni Schiumarini, autore del progetto assieme agli altri due scultori, entrambi pluripremiati nel campionato del mondo che si tiene ogni anno negli Stati Uniti e in quello europeo. Abbiamo iniziato proprio questa mattina e avremo bisogno di sette giorni per terminarle. L'inaugurazione sarà sabato alle undici e mezzo, però le sculture logicamente non saranno finite, saranno finite il 14 e 15 e abbiamo fatto questo perché ci piace che la gente possa vedere noi a lavorare e penso che sia la cosa molto più interessante. Tu sei italiano ma ci sono con te anche altri artisti stranieri? Sì, io sono italiano, faccio scultura, come professione sono architetto e ho chiamato per questo progetto altri due amici scultori, sono Rado Van Zivni della Repubblica Ceca e Tuale Ojeda da Gran Canaria. Ecco, sculture di sabbia, come nasce quest'idea di realizzare queste opere e soprattutto quale sarà l'opera per Salerno? Sabbia perché per me è il materiale più bello perché è molto più vicino alla gente, tutti hanno giocato con la sabbia e quindi sorprende molto di più realizzare grandi opere in sabbia. C'è un tema portante per questa esposizione qui a Salerno? Allora, il tema sicuramente non dico segreto, però è legato al mare e ai fatti più contemporanei. Comunque ci saranno le figure classiche del presepe, rienterpretate logicamente.